Buongiorno a tutti, sono Maria Locatelli, sono operatrice sciazzo, mi occupo della rubrica Le vie del benessere per Bergamo News. Quello che vi illustrerò in questo breve video è come può essere svolto un trattamento sciazzo, in questo caso siamo a domicilio ma a Bergamo e Provincia ci sono numerosi centri dove si svolgono queste attività. Come potete leggere nell'articolo qua sotto, lo sciazzo è una pratica di riequilibrio energetico, lo sciazzuka cioè chi pratica sciazzo aiuta il ricevente che viene fatto sdraiare su questo materassino che si chiama futon in abiti comodi, aiuta il ricevente a ritrovare il proprio equilibrio energetico, attraverso la pressione effettuata in diversi modi sui meridiani energetici, pressione che può essere fatta con i palmi delle mani, con i pollici, a volte anche con i gomiti, raramente con le ginocchia. Il concetto di salute per gli orientali infatti è una circolazione energetica fluida e armonica. Se questo non avviene può portare a disarmonie che possono tradursi in disturbi o addirittura in malattie. Quello che si sente alla fine di un trattamento è un profondo rigassamento e un buon livello di benessere. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video.